Lunedì 12 settembre, primo giorno di scuola per gli istituti di istruzione superiore di secondo grado che iniziano il nuovo percorso scolastico in una seminormalità dopo tutte le restrizioni degli anni precedenti dovuti al Covid-19. Dopo i primi momenti concitati per l'ingresso delle classi prime, il saluto e l'augurio per questo nuovo anno scolastico della dirigente Orietta Palombo per gli allievi del liceo scientifico da Vinci di Sora. Nella quasi normalità, almeno per il momento, anche le indicazioni sia del Ministero che del Comitato Tecnico Scientifico, Ministero della Salute eccetera, parlano di una quasi normalità, quindi non c'è più l'obbligo comunque della mascherina a condizione che riusciamo a rispettare nelle aule la distanza di un metro, diciamo, da sedia a sedia. Non c'è più bisogno, anche se non era estremamente prescrittivo neanche l'anno scorso, la misurazione della temperatura, anche se noi abbiamo comunque gli apparecchi pronti perché se qualcuno ha dei dubbi o entra un estraneo, la temperatura corporea gliela prendiamo, probabilmente, e noi lo speriamo tanto, non ci sarà bisogno di fare i turni di ingresso e di uscita perché insomma entrare alle 8, ma poi quelli che dovevano entrare due anni fa alle 10, l'anno scorso alle 10 meno 20, moltissimi dei nostri alunni, noi quest'anno abbiamo 40 comuni, 40 comuni, moltissimi dei nostri alunni dovevano comunque arrivare giù presto e rimanere due ore o un'ora e 40 in giro. Io auguro loro di avere un anno, a tutti, a tutti i nostri ragazzi perché anche quelli del quinto, anche loro hanno avuto tre anni complicati, di avere un anno sereno. Io dico sempre ai miei alunni, non mi dite che a scuola ci venite contenti perché non è un Luna Park, ma sereni sì, no? Sereni vuol dire che dovete venire, entrare la mattina a scuola con la consapevolezza che noi stiamo facendo il meglio per voi. Quindi ecco la serenità, la serenità per tutti noi, un minimo di normalità sia dentro sia fuori la scuola che poi i problemi del fuori si riportano dentro e viceversa, di poter trascorrere un anno scolastico che possa permettere loro anche di andare oltre l'aula. Speriamo sia un inizio di nuova normalità. Ad accogliere studenti e genitori nei vari istituti le dirigenti scolastiche per presentare il percorso scolastico che i ragazzi si apprestano ad intraprendere e per illustrare le piccole regole che ogni studente è tenuto a rispettare all'interno della propria scuola. I genitori e gli alunni dell'Istituto Cesare Baronio di Sora sono stati accolti dalla dirigente Rosella Puzzuoli che personalmente ha dato il benvenuto a tutti i ragazzi delle prime classi. L'Istituto Cesare Baronio di Sora offre tante opportunità ai giovani e le famiglie non solo della città di Sora ma anche dei paesi di Mitrovi stanno nuovamente apprezzando questa offerta formativa. Importante è dire questo. Io mi sono ritrovata in alcune situazioni dove addirittura qualcuno mi ha detto ma come sei preside a ragioneria? Ma non esiste più. Non è vero. Esiste ragioneria, esiste geometra, esiste l'Istituto Belchiero a Sora. Sono delle opportunità grandissime, delle offerte formative che permettono ai nostri giovani di poter non solo dare spazio a quella che è la loro, io la dico, intelligenza specifica ovvero a quelli che sono i talenti che vanno a scoprire e che noi aiuteremo a questi ragazzi di scoprire quali sono le loro abilità, quali sono le loro potenzialità ma anche, e non guasta secondo me, che permette loro al termine dei cinque anni di poter già inserirsi nel mondo lavorativo. Addirittura con il PCTO che ho sentito anche in tv ultimamente qualcuno non ha apprezzato, anzi ne ha parlato male però devo dire che le esperienze che fanno i ragazzi durante il periodo estivo o addirittura durante l'anno scolastico attraverso magari qualche interessante o convegno oppure interessante attività con qualche azienda specifica i ragazzi riescono già a interagire non solo col mondo del lavoro ma anche con gli adulti e quindi quelle che sono le regole oggi, stamattina abbiamo parlato del rispetto l'uno dell'altro abbiamo parlato delle regole scolastiche verificano che non sono regole scolastiche ma che sono regole di vita. Ecco, tutto questo offre l'Istituto Cesare Baronio di Sora. Auguro a tutti i ragazzi un buon anno scolastico a tutti i genitori un buon anno scolastico e a tutte le comunità scolastiche non solo del Cesare Baronio di Sora ma di tutta la città di Sora e anche di tutta la nazione che oggi abbiamo iniziato siamo al primo giorno e chiudo dicendo quello che ho detto poc'anzi anche ai professori una frase che non è mia ma era della Montessori per poter insegnare bisogna appassionare ecco, mettiamoci il cuore se riusciamo a metterci il cuore ognuno di noi, docenti, genitori riusciremo a fare in modo che i nostri giovani sentano pulsare sempre di più il loro cuore e sicuramente ci restituiranno restituiranno alla società un mondo migliore.